ci siamo attraverso un lungo percorso educativo questi ragazzi sono diventati degli uomini e vogliono dimostrare a se stessi e alle loro famiglie che possono farcela anche da soli ora una straordinaria opportunità di un appartamento che però dobbiamo arredare abbiamo bisogno di te la tua donazione su ideaginger.it per realizzare una cucina comoda funzionale adeguata alle loro esigenze dona adesso e gira questo messaggio ai tuoi amici è importante insieme realizziamo un futuro sereno per le persone con disabilità